picco d'affa pronto soccorso attiva i codici calore centro autismo tramonta la realizzazione a villa san martino pesaro sgomenta per la morte della sedicenne sofia segnalazioni autodistrutte e abbandonate sull'ardizio gradara prepara il decimo assedio al castello buonasera buonasera a tutti voi amici e amici di rossini tv ben ritrovati a rossini tv rossini news il telegiornale delle canale 80 notiziario di mercoledì 19 luglio che apriamo continuando ad occuparci della straordinaria ondata di calore che sta avvolgendo tutta italia che non sta risparmiando la nostra regione mettendo a serio rischio anche le condizioni di salute soprattutto delle categorie più fragili in tal senso il pronto soccorso si stanno attrezzando con percorsi specifici di fronte a queste criticità a fronte dei rischi alla salute derivati dal caldo primente di questa fase di luglio l'azienda sanitaria territoriale di peso urbino attiva da oggi nuove procedure prima fra queste i codici calore vale a dire un percorso assistenziale preferenziale e differenziato con un ambulatorio specifico destinato a tutti coloro che manifestano sintomi di malessere e di alte temperature un lavoro preventivo volto a rispondere ai colpi di calore e regolamentare accessi impropri ai servizi d'emergenza per evitare insomma che i pazienti poi vengano con colpi di calore insomma o colpi di sole in pronto soccorso e comunque anche il pronto soccorso si è strutturato per fare fronte insomma alle emergenze gravi un percorso calore in cui il pronto soccorso lavora di concerto con le strutture territoriali anche per un'assistenza successiva la prima urgenza ad oggi intanto il pronto soccorso di pesaro non presenta criticità allarmanti nella gestione degli accessi siamo all'inizio nel senso che comunque è iniziato da poco quindi verosimilmente vediamo nel prosieguo insomma come andrà grosse criticità rispetto al passato onestamente non ne stiamo riscontrando però siamo siamo allerta insomma medicina che continua a lavorare anche sulla diffusione dei comportamenti adeguati ad evitare le emergenze mi ricordo i consigli della mia nonna che era siciliana insomma anzi era nata a tripoli quindi insomma di caldo ne capiva e secondo me allora la prima cosa è evitare insomma di esporsi negli orari insomma più caldi quindi dalle 11 mezzogiorno fino alle 4 del pomeriggio poi secondariamente insomma bere molto soprattutto quell'acqua che si mangia diceva lei è quell'acqua che comunque noi assumiamo attraverso la frutta perché perché innanzitutto è più digeribile e in secondo luogo comunque insomma contiene dei micro elementi insomma che noi perdiamo con il sudore terzo punto è quello comunque di non aumentare insomma il divario della temperatura tra l'esterno e l'interno con i nostri condizionatori quindi usare come ho già detto insomma parecchie volte un deumidificatore piuttosto che il condizionatore avere proprio intanto l'azienda sanitaria prepara un servizio aggiuntivo infermieristico per i pazienti da curare con assistenza domiciliare in caso di criticità ulteriore la regione sta predisponendo pure la riattivazione delle usca già protagoniste della prima linea della pandemia vicina di prossimità che comunque secondo me è anche il futuro voglio dire quindi insomma curare le persone le cronicità le persone quelle fragili insomma a domicilio è sicuramente più efficace più economico e più confortevole per il paziente dopo due anni e mezzo di ragionamenti calibrati interamente sulla struttura peserese di via vatielli il centro regionale per l'autismo non si realizzerà più nella sede peserese di villa san martino un dietro fronte trapelato nel consiglio regionale di ieri il consiglio regionale di ieri ha impresso una retromarscia netta sulla realizzazione del centro per l'autismo a pesaro nella sede dell'azienda sanitaria territoriale fra via vatielli e via alfano a comunicarlo è stato l'assessore alla sanità filippo saltamartini rispondendo alla quarta interrogazione sul tema posta dal consigliere andrei biancani negli ultimi due anni e mezzo biancani con amarezza così visti materializzarsi i dubbi già avanzati in tempi non sospetti circa la compatibilità della struttura di villa san martino con il progetto di realizzazione negli stessi locali di una centrale operativa territoriale la cosiddetta cot che la regione ha previsto nel piano di riforma sanitaria nell'ultimo consiglio saltamartini ha valutato come incompatibile quella destinazione con una piena funzionalità del nascente centro per l'autismo si cerca dunque un'altra sede verso quale ci sono 400 mila euro già stanziati ma è un dietro front che arriva dopo anni in cui si è lavorato solo nell'ottica della destinazione di via vatielli un percorso delineato al punto che l'azienda sanitaria territoriale aveva richiesto una variante urbanistica al comune di pesaro approvata poi dallo stesso consiglio comunale nel mese di marzo ora la regione sta effettuando sopralluoghi per una nuova destinazione che dia autonomia e piena funzionalità al centro per l'autismo sgomento a pesaro per la scomparsa ad appena 16 anni di sofia fraternale giovane liceale stroncata da una malattia un dolore lacerante per mamma lucia papa massimo il fratello davide che ieri hanno annunciato un lutto che era trista un'intera comunità saranno in tanti infatti partecipanti attesi al funerale che si terrà domani 20 luglio alle 19 nel campo sportivo peserese di loreto ed ora cambiamo argomento e ci spostiamo a fano dove proseguono gli scavi archeologici in via vitruvio grazie al recentemente finanziamento messo a disposizione dal ministero della cultura per appurare se l'edificio scoperto nel territorio fanese sia o meno la leggendaria basilica descritta da vitruvio nel de architettura un'ipotesi che continua ad avvalorarsi grazie alla recente scoperta di un significativo pilastro in calcestruzzo che denoterebbe la presenza di un edificio di grandi dimensioni una scoperta archeologica che il comune di fano vuole approfondire al punto da ipotizzare una permuta per l'acquisizione dell'area al momento privata ed ora spazio alle segnalazioni di voi telespettatori che come sempre vi ricordo di inviarci al numero che vedete in grafica 3 7 0 3 6 6 7 2 1 0 oggi parliamo di due auto distrutte abbandonate fra sacchi di polistirolo e cartongesso questo lo scenario di degrado segnalatoci da un nostro telespettatore in strada panoramica ardizio sembrano immagini da thriller quando il malvivente di turno compie un reato grave e per eliminare qualsiasi traccia abbandona l'auto utilizzata per il crimine dandola alle fiamme sono immagini irreali invece quelle riprese dalle nostre telecamere in un'area nascosta di strada panoramica ardizio dopo una segnalazione da parte di un telespettatore due vetture una fiat panda e una nissan micra entrambe vecchio modello presumibilmente incendiate e lasciate incustodite da non si sa quanto tempo se l'automobile nissan appare con la parte anteriore visibilmente bruciata mentre il posteriore della carrozzeria si è pressoché salvato la fiat panda young risulta completamente demolita dal calore delle fiamme ciò che è rimasto è lo scheletro dell'auto motore sfasciato vetri frantumati e abitacolo ormai inesistente a bordo di entrambe sono stati ammassati pezzi di cartone polistirolo scatoloni e contenitori di plastica avvolti da una quantità spropositata di ragnatele mezzi che si trovano in queste rottamate condizioni in un piccolo spiazzale che rimane sulla sinistra una volta imboccata strada panoramica ardizio un'area poco frequentata proprio per questo complice e dello stato di abbandono così prolungato a pochi metri da questi due relitti diversi sacchi neri lasciati incustoditi uno ammassato sull'altro ognuno di essi contiene polistirolo e cartongesso forse vigliaccamente abbandonati dopo alcuni lavori domestici e a proposito di segnalazioni è divenuta virale sui social l'immagine di una grossa svastica disegnata sulla spiaggia di sottomonte un disegno avvenuto ieri che sembrerebbe opera di ragazzini che ha procurato commenti di sdegno tanto fra i bagnanti pesaresi quanto fra chi l'ha osservata online passo in avanti per dotare di un nuovo mammografo il distretto sanitario pesarese di via nanter è stata infatti aggiudicata la gara per il nuovo macchinario di ultima generazione che verrà installato nel centro per la prevenzione screening del tumore alla mammella per le donne residenti nel comune del distretto di pesaro la messa in funzione è prevista per il mese della prevenzione del tumore al seno nel mese di ottobre torna il riconoscimento della provincia di pesaro e urbino ai meriti dei super maturi che come di consueto sarà dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio usciti con la votazione di 100 elode dall'esame di stato l'iniziativa in programma a piobbico sabato 29 luglio alle ore 18 nel castello brancaleoni ospite d'eccezione sarà greta cristini analista di geopolitica reporter di guerra e scrittrice che dopo i saluti istituzionali dialogherà con i presenti sul tema ritorno al futuro e fano ha celebrato oggi uno dei suoi cittadini più longevi il sindaco massimo seri ha festeggiato infatti 100 anni di aldo luzzietti assieme al primo cittadino anche gli auguri del nuovo vescovo monsignor andrea andreozzi appuntamento speciale con la sesta edizione di note oliveriane di giovedì 20 luglio alle ore 21 nell'occasione il cortile di palazzo almerici ospiterà le sonorità e ancestrali e le riflessioni su un tempo sospeso tra passato e presente con segrete corrispondenze e conversazione teatrale al femminile intorno al mondo italico e romano un appuntamento a cura di frida neri anissa guizzi e alessandro pertosa sabato 22 e domenica 23 luglio invece gradara ospita una delle rievocazioni storiche più belle d'italia parliamo dell'assedio al castello gradara è pronta al ritorno di assedio al castello dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia il borgo è pronto nuovamente a catapultarsi indietro nel tempo da sabato 22 a domenica 23 luglio si tratta di una delle rievocazioni storiche più belle d'italia che compie 10 anni accompagnando i visitatori dentro e fuori le mura in un viaggio in una dimensione epica tra sprazzi di vita quotidiana del 400 compagnie di armigeri cavalieri in armatura vivandiere nobildonne messeri tra balli di corte accampamenti di armigeri artiglieria e cavalli disposti su un grande palcoscenico di due ettari ci sarà un esercito di oltre 200 rievocatori a dare vita ad uno spettacolo unico nel suo genere e storicamente ispirato in maniera filologica all'assedio messo in atto nel 1446 dai potenti eserciti degli sforza e dei montefeltro contro gradara che all'epoca era uno dei più importanti castelli malatestiani sabato e domenica all'interno delle mura del borgo fortificato risuonerà il fragore della battaglia con la messa in scena di un vero e proprio cine spettacolo accompagnato da una colonna sonora dal vivo e da un racconto teatrale a più voci tra cavalli addestrati al galoppo lancio di frecce infuocate il crepitio delle armi da fuoco da non perdere poi l'eccezionale spettacolo piro musicale uno dei più grandi al mondo realizzati sulle mura di un castello che nella notte di sabato infiammerà il cielo sopra la riviera con 10.000 effetti esplosivi e da gradara passiamo a monbaroccio dove il 21 luglio arriva il secondo appuntamento di conterranea una rassegna fra natura e cultura all'insegna della valorizzazione dell'olio dop di cartoceto è giunto alla seconda fermata il viaggio nelle terre dell'olio dop cartoceto è la volta di monbaroccio quando il 21 luglio l'iniziativa conterranea farà visita ad uno dei tre comuni dell'areale dell'unica dop olearia delle marche un percorso che mette assieme ristorazione luoghi di interesse storico e paesaggistico musica e riflessione concerti spettacoli e talk culturali dopo colli al metauro e monbaroccio il 29 luglio il tour oleario si concluderà a cartoceto olio dop di cartoceto qui siamo parte con altri comuni come colli al metauro e fanno nel percorso dell'areale un percorso importantissimo sulla valorizzazione dei territori e per il frutto che la terra dà ai nostri territori venerdì sera saremo a palazzo del monte nel contesto del giardino a proporre l'olio nelle sue degustazioni e all'interno dei percorsi di quella che sarà una cena accompagnata da musica e poesia in un contesto particolare naturalmente siamo all'interno dell'ottocentesimo anno del Beato Sante con l'evento che poi si porterà il sabato o la domenica e il venerdì anteporremo anche la scienza saremo dentro qui do valdo del monte dentro i suoi giardini quindi scienze e fede che si guardano in un contesto meraviglioso come quello di un borgo di un comune se ben piccolo ma con grandi valori quindi Beato Sante, Monbaroccio, scienza, fede, tutto intorno a una tavola tutto un prodotto come il DOP di cartoceto che accomuna la poesia e la fede, la scienza e la religione insieme a tavola per confrontarci parlarne davanti a bellissimi piatti di grande valore ma anche vini perché c'è anche il valore del vino con tutti i vini locali a partire dalle cantine di Lucarelli per scendere a quelle di Mariotti in un contesto meraviglioso come quello appunto del palazzo E continuano le risate all'Arena BCC di Fano con tanti appuntamenti di teatro dialettale come quello che andrà in scena questo venerdì e che possiamo anticiparvi nell'intervista realizzata da Antonio Astuti E noi portiamo in scena la commedia 2023 dal titolo Cum la gira la giri, manda sempre le donne ed è una commedia che gioca un po' sui luoghi comuni riferiti sia... Però me lo faccio dire, più che una commedia è la verità Allora, noi giochiamo sui luoghi comuni riferiti sia alle donne, al genere femminile che al genere maschile chiaramente sono le donne che parlano male degli uomini e viceversa Però comanda loro Sì, alla fine insomma gli abbiamo dato un contentino mettendone nel titolo poi proprio bisogna vedere la commedia per capire come si svolgerà la cosa, insomma ecco Sì, anche bello questo perché poi affrontare sempre il tema delle relazioni uomo-donna è molto stimolante E crediamo che farlo col dialetto sia anche molto divertente Certo, senza altro, comunque non mancheranno i tradizionali colpi di scena, le situazioni paradossali Quali tradimenti, insomma, quindi ci sarà veramente da ridere, due ore di spasso saranno Perfetto, quindi 21 luglio, compagnia GAF, cum la giri la giri, manda sempre le donne Allora, chi si vuole divertire, chi vuole passare due ore veramente simpatiche non può mancare il 21 luglio con il GAF, cum la giri la giri, manda sempre le donne E concludiamo con le notizie di sport Due buone notizie in casa WL che applaude il suo Riccardo Visconti che fra i 16 convocati dalla Nazionale Italiana per il raduno premondiale che si terrà a Folgaria WL che ieri ha anche ufficializzato l'ingaggio di Trevor Bluiett ala americana di 29 anni, reduce da una esperienza in Polonia con il Dabrova Gornizza Dal basket al calcio, novità in entrata anche per la Vispesoro che ha ufficializzato l'ingaggio delle trequartista classe 2003 Lorenzo Loru con contratto triennale Prodotto delle giovanili del Cagliari, Loru proviene dall'atletico Uri Serie di Sarda in cui ha collezionato 52 presenze, 5 gol e 3 assist E con lo sport concludiamo questa edizione del nostro telegiornale Rossini News Prima dei saluti vi ricordo la prima serata di questo mercoledì 19 luglio dedicato a Carpegna, all'estate di Carpegna in questo speciale realizzato in occasione della tredicesima edizione del Vespa Day E poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, il nostro appuntamento fisso con la rassegna stampa dei quotidiani locali dal lunedì al sabato Si chiude invece qui l'informazione di Rossini News Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi Vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito